Ciao ragazzi, andiamo oggi a lavorare su un'esercitazione che prevede un passaggio, un controllo orientato, per poi andare a prendere la posizione del compagno e ripartire così in senso anti-orario. Andiamo a lavorare sul destro, sia col controllo che col passaggio. Poi facciamo una variante e andiamo a lavorare sul tiro in porta dopo il controllo orientato. Quindi passaggio, ricevo, spingo in avanti la palla orientato e vado a calciare in porta. Oggi ci aiuteranno due ragazzi della Bonolis, Giovanni Mano. Ok, andiamo ragazzi! Ragazzi, naturalmente quando fate un'esercitazione in allenamento, lavoriamo sia col destro che col sinistro. Per lavorare col sinistro, facile, basta mettere questo cinesino giallo dall'altra parte, il blu dall'altra e andiamo a lavorare con, andiamo ad alternare i piedi. Adesso andiamo a fare la variante dove chi sta su questo cinesino giallo va a orientare per calciare in porta. Guardate! Vai Vai No, distocchie la parte Vai, vai, vai 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 Bravo Acceleriamo Vai Bocchiamo Bravo 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 Bravissimi ragazzi Hanno capito che Devono aspettare un attimino Il tempo giusto per andare a controllare la palla E calciare in porta è fondamentale Quindi, attenti, passaggi precisi Controllo orientato, spingo in avanti Ed è importantissimo il tempo in cui mi smarco Se chi sta sulla posizione gialla Anticipa troppo e va in avanti Non riesce a ricevere il passaggio del compagno E quindi va fuori tempo Ciao ragazzi Salutiamo i nostri amici Venite Manu, Giovanni Ciao, grazie Vai, vieni Manu Ciao, grazie Ok, ci vediamo al prossimo video E grazie ragazzi Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto E lasciate un like Ciao a tutti